Mancano solo 5 giorni al 21 12 2012, in teoria l'ora X, la fine del mondo per qualcuno l'apocalisse, in pratica un giorno come gli altri un indaffarato sabato prenatalizio. Infatti la profezia dei Maya sembra occupare più spazio tra le pagine dei giornali e dei siti internet che nella mente dei piacentini. La fine del mondo? No, non ci credo. Per nulla proprio? No, credo in quello che c'è scritto sulla Bibbia. Tranquilla? Non c'è scritto che la fine del mondo sarà così, quindi per me non sarà così. Abbastanza no. Non del tutto però, tieni aperta una porta alla possibilità? No, non si sa mai. Voi invece? No, no, no. Assolutamente. Quindi venerdì non fate nulla di particolare? No, si festeggia in ogni caso, però non finisce il mondo. Mi auguro di no. Venerdì farà qualcosa di particolare? Ma guarda, come si fa a sapere, se lo facciamo prima, chissà tutti faremmo qualcosa di particolare, purtroppo non si sa. Assolutamente no. Per nulla? No. Quindi venerdì non fai nulla di particolare? No, penso di lavorare, stare a casa e comodamente sul divano. Lavoro, quindi... No, no, shopping, lavoro, si mangia le solite cose, si prepara il Natale. No, per niente. Neanche tu? No, 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 per niente. Ma venerdì non fate niente di particolare, quindi, come ultima giornata? No, no, niente, si lavora. No, no, ce ne saranno altre i giornati. Superstizioni e gli scenari tragici annunciati dai profeti di sventura non sembrano aver fatto presa sui cittadini. Forse qualcuno tiene nascosto un lecito dubbio scaramantico, ma di fronte alle telecamere sembrano non esserci dubbi. Anzi, i timori sono ben altri. Fine del mondo, alla fine del mese c'è da preoccuparsi, ma alla fine del mondo un po' meno, dai.